Benvenuti cari amici con le consuete notizie del vidi sportivo di questa settimana. Comitati olimpici europei si sono riuniti in Slovacchia per analizzare il momento dello sport continentale. È iniziato a Samorini il 41esimo seminario COE, finalizzato a stilare un consultivo al termine dei giochi olimpici estivi di Tokyo ed analizzare gli scenari futuri anche in vista degli ormai imminenti giochi olimpici invernali di Pechino. La riunione, la prima del nuovo esecutivo, è stata aperta dai messaggi del nuovo presidente Spiros Capralos, del segretario generale del Comitato Olimpico Slovacco Joseph Liba e del segretario di Stato per lo sport della Repubblica Slovacca Ivan Usar. Il CONI è rappresentato dal segretario generale Carlo Mornati. Sono presenti i delegati di 44 dei 50 comitati olimpici nazionali ed europei. La giornata è stata divisa in due temi principali, dopo Tokyo 2020 e il miglior percorso verso il futuro. Passiamo al Judo. Grand Slam ad Abu Dhabi. Il Judo azzurro si prende la vetrina internazionale. Una fantastica Assunta Scutto ha vinto il Grand Slam di Abu Dhabi nei 48 kg, superando in finale la forte francese Charaine Boukli, il numero 4 del ranking mondiale, oro agli europei 2020, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. È stata una gara semplicemente perfetta quella della 19enne campionessa del mondo junior a Olbia, seguita da Abu Dhabi da coach Antonio Ciano e la finale è stato il capolavoro che ha completato un'opera magistrale. Atteggiamento vincente sempre, ha detto il direttore tecnico nazionale Laura Di Toma. Assunta è stata sempre determinata e decisa, vincendo tutti gli incontri facendo Judo. Complimenti a lei e al suo gruppo sportivo Fiamme Gialle. Si ringrazia la Fisilcam per la foto. Karate. Campionati europei della World Karate Martial Arts Organization. Si è svolto a Lignano Sabbia d'Oro, in provincia di Udine, il primo campionato europeo World Karate Martial Arts Organization, la federazione mondiale che ha preso il posto della VUCO ed oggi preseduta dal maestro Paolo Bolaffio Novo Dan. Oltre 500 atleti iscritti hanno partecipato su cinque tatami alla competizione di Catà, sabato 27 novembre, e alla competizione di Kumite domenica 28 novembre, suddivisa in sportivo tradizionale e contatto. Dopo un anno di inattività con gare online, la VKMO torna ad una competizione in presenza ed in concomitanza è stata organizzata in Florida il primo campionato nordamericano. L'Università di Torino premia studentesse e studenti dell'Ateneo che hanno partecipato a Tokyo 2020. Lunedì 29 novembre il direttore generale Andrea Silvestri e il vice direttore per il welfare e la sostenibilità e lo sport Alberto Rainoldi e la presidente del corso di laurea magistrale in scienze dell'educazione motoria e delle attività avanzate Emanuela Rabbaglietti hanno premiato le atlete e gli atleti dell'Università di Torino che hanno partecipato ai giochi olimpici e paraolimpici di Tokyo 2020. Le atlete e gli atleti premiati sono Luigi Buzao, Carlotta Agilli, Elisabetta Migino, Nicolas Mungai, Federico Tontodonati, Hilary Wanderson Polanco-Rigio. Insieme a loro sono stati premiati anche gli allenatori Francesco Bruiere e Salvatore Loria. Oggi abbiamo premiato le eccellenze dell'Università di Torino che si sono contraddistinte per i successi ottenuti agli ultimi giochi olimpici e paraolimpici di Tokyo 2020, dichiara il professor Alberto Rainoldi. L'Ateneo è sempre più impegnato a garantire loro una doppia carriera sia nella veste di studenti che in quella di atleti. Grazie anche al CUS di Torino e al progetto Agon abbiamo dato inizio alla Dual Carer e oggi sono 60 gli studenti e le studentesse che ne fanno parte. Passiamo agli scacchi. I campionati italiani di scacchi. Mentre a Dubai si contentono il titolo mondiale, anche l'Italia si appresta a vivere il suo appuntamento scacchistico più importante. Sono partiti infatti il 30 novembre a Chiangiano Terme e si concluderanno l'11 dicembre i campionati individuali di scacchi suddivisi in tre tornei, Assoluto, Femminile e Under 20. 28 giocatori si sfidano per ottenere l'ambito titolo di campione d'Italia e scrivere il loro nome a lettere d'oro negli annali. I campionati italiani hanno ottenuto l'alto patrocinio del Ministero per le politiche giovanili ed è responsabile del di Castero l'Onorevole Fabiana Dadone, oltre della Regione Toscana e del Comune di Chiangiano Terme. Al termine del torneo, l'11 dicembre nel Salone Nervi delle Terme di Chiangiano si svolgerà il Gala degli Scacchi, una festa della Federazione in cui verranno premiati con delle onerificenze denominate benemerenze al menito, nove personalità che hanno dedicato la vita alla promozione e alla diffusione degli scacchi. Il saluto del Presidente della Federazione Scacchistica Italiana Luigi Maggi. È davvero gratificante per me, per tutti noi, rinnovare l'appuntamento con i campionati italiani di scacchi assoluti femminili e juniores in presenza. Alla manifestazione abbiamo voluto unire un'altra iniziativa fortemente voluta, la consegna di una nuova onerificenza denominata Beneverenza al Merito, destinata a coloro che con la loro opera e il loro esempio hanno contribuito a diffondere, a insegnare e a organizzare gli scacchi in Italia. Concludo salutando i giocatori che di certo si imbatteranno lealmente e con determinazione per conquistare il prestigioso titolo di campione italiano. Viva lo sport e viva gli scacchi, il Presidente Luigi Maggi. Quanchido, domenica 28 novembre, si è svolto con il successo il Corso Cinture Nere Nazionale. Praticanti di tutte le regioni si sono ritrovati per condividere insieme un momento di allenamento ricco di sorrisi e voglia di imparare. La Direzione Tecnica Nazionale, coadiuvata dagli esperti dell'Accademia di Huanglong, ha potuto verificare il livello tecnico raggiunto e perfezionare i particolari tecnici. Era presente al corso anche Min Xu, Florin Fraga, direttore tecnico austriaco e esperto internazionale della World Union of Quanchido, perché la via dell'arte marziale si sviluppa lungo la strada della condivisione e dell'amicizia. Calendario e prossimi appuntamenti. Webinar, l'etica e il valore delle regole. L'etica e il valore delle regole, l'obiettivo è quello di favorire una riflessione sull'etica e di evidenziare quanto sia strettamente collegata alle regole, all'educazione e all'agonismo sportivo e quindi fornire uno strumento teorico per migliorare la relazione pedagogica con gli allievi. Su questo importante fondamento dell'etica sportiva, la FIGILCAM sta sviluppando alcuni progetti educativi sulle disabilità, sindrome di Down e autismo, incentrati sul concetto di inclusione attraverso la pratica delle arti marziali. Nello specifico questo corso sarà coordinato dal professor Renato Manno e vedrà come relatore Emanuele Isidori, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Roma, Foro Italico e responsabile del Laboratorio di Pedagogia Generale. Fight One, domenica 5 dicembre 2021 a Ponte Cagnano, Salerno, per la prima fase del campionato regionale Campania e trofeo Open Leone Powered, organizzano Valerio Farina e Sporting Center, sponsorizzato dalla rivista Samurai. Karate, 14esima Coppa Italia, la manifestazione organizzata in collaborazione con il comitato regionale Friuli Venezia Giulia, rappresenta il massimo evento federale promozionale e riservata ai tesserati FIC, dalla cintura bianca alla blu di tutte le classi di età, comprese le cinture marroni delle classi bambini, ragazzi e speranze. Golden Cup, Cervigliano del Friuli Udine, 4 e 5 dicembre 2021. Palazzetto dello Sport, riservato esclusivamente ai tesserati FIC della categoria esordienti in su, solo cinture marroni e nere e valevole per il punteggio azzurrabili. Pugilato, domani 3 dicembre al Pararuffini di Torino, Viale Leonardo Bistolfi, 10 ore 19, campionato italiano Piuma, Lusci contro Tassi e Super Piuma, Nordin contro Limone. Pugilano assoluti 2021, Montecatini, Palasport, eliminatori dal 3 al 6 dicembre e finali a Massacarrara dal 17 al 19 di dicembre. Scherma, lo sport fa bene, sempre, ma il 6 dicembre al Paladozza di Bologna il bene raddoppia. Come? Acquista il biglietto dal sito www.virtusscherma.it ed indica nell'apposita sezione alla voce altro il nome della tua associazione preferita. Il 50% del valore del biglietto sarà devoluto a noi per la realizzazione dei nostri progetti. Ti garantirai dunque la partecipazione a un evento eccezionale, sapendo di aver contribuito ad aiutare i nostri bimbi. Inoltre, il giorno dell'evento, all'interno del Paladozza, troverai un corner con i nostri volontari dove poter acquistare i nostri prodotti solidali, che a brevissimo saranno anche online. Lo sport fa bene. Una mostra è una conferenza a Vicenza su antichi libri che trattano di scacchi. Tra scacchi e cultura è un evento imperdibile per gli appassionati della storia del nostro gioco, quello che si sta per tenere a Vicenza, a Palazzo Cordellina. Si tratta di una mostra intitolata La battaglia dei due re, con finte schiere. La storia degli scacchi tra il XIII e il XVIII secolo nei libri della biblioteca bertoliana. Cari amici di Vivi Sportivo, appuntamento alla settimana prossima. Grazie a tutti.